La gara la facciamo o non la facciamo? La gara la facciamo o non la facciamo? La gara la facciamo o non la facciamo o non la facciamo? La gara la facciamo o non la facciamo o non la facciamo o non la facciamo. La gara la facciamo o non la facciamo o non la facciamo. E dove sono? Uno è là e due sono lì. Io avverto. Chi li prende nel muso vince una maglietta basta. La gara la facciamo o non la facciamo? La gara 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 la facciamo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.